Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato agli amanti del vero ascolto. Ebbene sì, è giunto finalmente il momento di svelare quali siano i componenti del mio impianto Omteater, anzi mio e di Elena. Infatti molti di voi attraverso il canale mi hanno fatto questa richiesta di rivelare quali siano i componenti e il perché abbia scelto un componente piuttosto che un altro, così come era già successo per il mio impianto Hi-Fi. E visto che per l'impianto Hi-Fi avevamo organizzato un piccolo gioca premi in cui avevamo chiesto a voi di indovinare quali fossero i componenti e questo gioco ha avuto un discreto successo abbiamo pensato di replicare anche per l'impianto Home Cinema. E quale migliore occasione per un piccolo gioca premi se non quella di festeggiare i primi 3.000 iscritti al canale? Grazie, grazie, grazie! Siamo molto contenti di questo traguardo, vi ringraziamo per questo e speriamo di diventare sempre di più in futuro quindi iscrivetevi al canale mi raccomando. Ok ma torniamo a noi, torniamo a questo piccolo gioca premi che chiameremo Guess My Theater. I premi in palio saranno tre e ciascun premio verrà associato, verrà assegnato a chiunque di voi indovini marca e modello dei tre componenti principali del mio impianto Home Theater, vale a dire diffusori, sinto amplificatore e ovviamente non dimentichiamoci il terminale video. Tutti i giochi a premi hanno delle piccole regole e cerchiamo adesso di elencare quali sono le regole di questo giochino. In modo randomico pubblicherò sul canale quindi senza una cadenza precisa dei piccoli indizi per aiutarvi a indovinare ciascuno degli elementi quindi dal momento che non c'è un momento preciso in cui arriverà questo indizio vi suggerisco di attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati su quando arriverà questo indizio. Potrete cercare di indovinare marche e modello di ciascuno degli elementi solo attraverso i commenti a questo video e a quelli che arriveranno però sempre solo quelli legati a questo gioco quindi non verranno presi in considerazione i commenti su lasciati sui post che farò su facebook e su instagram. Per ciascun video quindi tra un suggerimento e l'altro vale un solo commento quindi ci sarà un solo tentativo per ciascuno di voi tra un video e l'altro. Questo per dare a tutti la stessa possibilità di indovinare e quindi non vale snocciolare i cataloghi home theater come un rosario e cercare di indovinare con 40 commenti allo stesso video. Come è già successo per il gioco Guess My Fi anche per il Guess My Theater i miei amici quelli che in particolare sono già stati qua in questa sala non possono giocare anche perché loro tra di loro ci sono degli iscritti al canale quindi non vale. Ci sarà un premio diverso per ciascuno dei tre componenti che compongono l'impianto home theater quindi un premio per il terminale video uno per il sinto amplificatore uno per i diffusori. Questi elementi nel corso del gioco andranno indovinati uno per volta quindi non risponderò ai commenti in cui si cercherà di indovinare gli altri. Ad esempio se la domanda è qual è il mio sinto amplificatore non vale e non verranno presi in considerazione i commenti in cui si cercherà di indovinare le casse. Vince quindi chi indovinerà marca e modello di ciascuno degli elementi da indovinare. Nel momento in cui ci sarà un vincitore verrà annunciato il premio, verrà identificato il vincitore e si lancerà al gioco per l'elemento successivo. Ok credo di aver elencato tutte le regole e spero questo gioco vi piaccia e che parteciperete numerosi così come avete partecipato al Guess My Fi. Partiamo dal terminale video. Vince il primo premio, vincerà il primo premio chi indovinerà marca e modello del mio schermo. Non mi resta che augurarvi buona fortuna, buoni ascolti e ciao!